Ok, bene. Buongiorno a tutti. Mi sembra quasi dovremmi scusare di parlare in italiano anziché in inglese come si tende a fare in queste conferenze, ma dato che la conferenza di oggi sarà in italiano e avrà al suo centro anche una figura molto importantissima di studioso di rievanza internazionale, ma che ha scritto in italiano le sue opere, almeno in prima battuta, mi fa molto piacere rimanere all'interno della nostra lingua. Alcuni di voi mi conoscono, sono Edoardo Piccoli, insegno storia dell'architettura in alcuni corsi e in alcuni corsi di laurea, insomma, in questo Politecnico. A fianco a me abbiamo il mio collega Cesare Tocci, che è docente di restauro e consolidamento. e diamo il benvenuto insieme, insieme con il comitato organizzatore di queste conferenze, al professor Antonio Becchi, che introduco molto brevemente. Antonio Becchi è architetto, ma diciamo è un architetto a cui ogni definizione disciplinare sta stretta, laureatosi con Edoardo Benvenuto, un altro grande eccentrico, insomma, delle professioni dell'architettura e dell'ingegneria, come vedremo. Formatosi e laureatosi a Genova, no? Con Edoardo Benvenuto, è però almeno da una ventina d'anni uno studioso europeo, insomma, un clerico vagante, non medioevale, ma contemporaneo, stabilitosi ormai da tempo scientificamente, insomma. A Berlino ha insegnato negli ultimi 15-20 anni in numerose università, ma in particolar modo a Berlino, con continuità, oltre che a Genova e credo anche per un periodo a Venezia, giusto se non sbaglio. Antonio Becchi si è occupato, direi, di storia delle scienze innanzitutto, anche se è una storia delle scienze con dei fortissimi legami strutturali, con la storia dell'architettura e la storia del costruire, ma con incursioni, insomma, in campi differenti, no? Le scienze, le arti, insomma, anche le arti contemporanee, in modi di espressione contemporanea, ma con, credo, delle ricerche in corso, se ho capito bene, se ho detto bene, proprio in questi ultimi anni, su un altro grande, sui manoscritti di un'altra grande figura trasversale delle scienze e delle arti europee, anzi quasi una figura fondativa rispetto a degli interessi che non possono essere classificati all'interno di discipline, che è Leonardo da Vinci, di cui sta studiando alcuni manoscritti di Leonardo, alcuni manoscritti che sono passati per le mani di Leonardo, come il codice Ashburnham. Lo abbiamo invitato non soltanto per il piacere di vederlo e di ascoltarlo, insomma, lasciandogli una parola il più possibile libera, ma l'abbiamo invitato anche perché Antonio Becchi è stato, insomma, il fondatore dell'Associazione Edoardo Benvenuto per la History of Structural Mechanics, credo che abbia un titolo ufficialmente in inglese, e perché almeno da un ventennio, a partire ovviamente dai suoi studi fondativi e dalla sua formazione, però almeno da un ventennio Antonio Becchi è cofondatore, animatore, membro di, insomma, comitati scientifici e consigli di amministrazioni di una serie di associazioni internazionali che si dedicano alla storia o che promuovono la storia della costruzione. La società francese, o meglio, francofona, di Société Francophones de Histoire de la Construzione, e la Construction History Society, sia quella, insomma, britannica, sia la nata da poco, o quasi neonata, associazione internazionale delle associazioni di storia della costruzione. Questo suo impegno, direi, impegno nella discussione, nella promozione della storia della costruzione è per noi un motivo di interesse particolare e anche definisce per noi un modello di comportamento perché negli ultimi, insomma, abbiamo formato presso il nostro Ateneo all'interno del Dipartimento di Architettura, ma con un'apertura a tutto il Politecnico, abbiamo formato due anni e mezzo fa, insomma, forse approfittando della pandemia senza neanche accorgercene, perché sarebbe stato molto più difficile farlo ora, un gruppo di studiosi, alcuni, insomma, dai dottorandi fino ai docenti e fino addirittura, insomma, alcuni docenti già in congedo dal nostro Politecnico, un gruppo di, prima di studio e poi definito come centro di ricerca, chiamato Construction History Group, che ha due obiettivi, da un lato quello di costituire un luogo dove periodicamente ritrovarsi e parlare di questioni di storia della costruzione, parlandone da punti di vista e accettando punti di vista molto differenti, anzi il più differenti possibili, partendo dalla storia, dalle discipline storiche, da quelle della progettazione, da quelle dell'ingegneria, no? Il più possibile mettendo a frutto la diversità di formazioni, di competenze che esistono all'interno del Politecnico. Ma poi con un secondo obiettivo che è quello di promuovere la didattica e l'interazione anche con gli studenti a tutti i livelli su questi temi, pensando che è importante recuperare e rinforzare, rafforzare oggi un contatto con la materialità del costruito, oltre che con le scienze, insomma, storiche e con le scienze matematiche che sostengono lo studio del costruito, naturalmente, ma che questo rinnovare l'attenzione alla materialità delle architetture, delle strutture, dell'architettura e dell'ingegneria è necessario, è tanto più necessario oggi, insomma, in un contesto, in una società che sempre più si affida a dei modi di trasmissione, discussione dei dati, anche presentazione, anche delle conferenze sempre più smaterializzate e virtuali. Questo naturalmente è un bene, ma è un bene che in qualche modo deve essere controbilanciato da una chiara comprensione di che cos'è la materia e da una chiara consapevolezza che è per delle questioni di fisicità e materialità e per la trasformazione di dei luoghi reali che ci troviamo tutti qua. Non aggiungerei molto altro, se non che in omaggio alla materialità del nostro discorso ho portato queste vecchie cose che sono dei libri qua, insomma, non sono affatto vecchi, i libri stanno diventando qualcosa di più simile a ciò che erano un tempo, forse, insomma, nel periodo tra il XVI e il XIX secolo, sono degli strumenti fisici e materiali di lavoro, di consultazione, la cui presenza indica un'attenzione particolare. Non sono più degli strumenti, come dire, da dove si acquisiscono delle informazioni di base, per fortuna non c'è più bisogno di passare attraverso di loro, ma un libro può ancora essere veramente un mattone su cui costruire un edificio, insomma, un oggetto da scegliere volontariamente, non semplicemente da acquistare, perché tutti ce l'hanno questa stagione passata, ma su cosa sta rimanendo, insomma, su come si trasformeranno i libri, il discorso è ancora aperto. Io credo che alcuni di questi libri legati alla conferenza di oggi, o insomma, che Antonio Becchi ha aiutato a creare, a costruire, si possano configurare come degli oggetti che rimarranno a lungo, non solo nelle biblioteche, ma anche sulle scrivanie di chi si occupa di questi temi. Ne ho portati in realtà tre collegati alla conferenza di oggi, uno è l'edizione internazionale in inglese del libro fondamentale di Edoardo Benvenuto, pubblicato nel 1991 in inglese e nel 1981 in italiano, parla il titolo italiano La scienza delle costruzioni nel suo sviluppo storico, che diventa, in titolo forse più seducente in inglese, An Introduction to the History of Structural Mechanics. Il singolo volume italiano è diviso, insomma, diventano due volumi nell'edizione della Springer Verlag, Statics and Resistance of Solids and Vaulted Structures and Elastic Systems. Insomma, questo è un oggetto, è un monumento, come tutti i monumenti o come tutti i grandi trattati di architettura, consente diversi livelli di lettura, nel senso che persino io posso pensare di leggerlo e di capirlo, anche se contiene dei saperi che a me, per esempio, non sono accessibili, a differenza, insomma, dei due colleghi che stanno a sinistra e a destra del tutto scritto. Altri due, insomma, oggetti che in qualche modo sono in relazione con quello che diremo oggi o di cui vorremmo parlare, sono un testo che ho visto, tu hai scritto forse nell'anno in cui sei partito per Berlino, insomma, è stato pubblicato, con Federico Foce, direi il punto di arrivo della tua esperienza genovese, di un lungo, di una sorta di lunga riflessione sulla formazione, ma un libro anche molto importante per la storia della costruzione in Italia, non perché parli di questioni italiane, ma perché, come dire, riporta e traduce alcune questioni aperte da benvenuto, le riporta in un discorso sull'architettura europea e sulla stereotomia, degli archi e delle volte, arte del costruire tra meccanica e stereotomia, che inizia con un bellissimo, in realtà, una citazione da Luigi Nono, di un brano di Luigi Nono, che se non sbaglio vuol dire non c'è una strada, ma soltanto una traccia nel mare, una scia nel mare da seguire, ed è questo, insomma, che deve fare lo studioso. E infine, forse l'oggetto che per me è stato veramente un compagno di strada in questi due o tre anni, per via della decisione di fondare, assieme ad alcuni colleghi, questo gruppo di lavoro sulla storia della costruzione, un volume che Antonio Becchi ha curato con Robert Carvet, che adesso è il segretario della società francofona, e Joel Sakharovic, che è un grande studioso che è mancato troppo presto, insomma, alcuni anni fa, che una, da un lato, è una raccolta di saggi scritti per l'occasione che fanno il punto su che cos'è la storia della costruzione nei diversi paesi europei, dove la si pratica, e dall'altro è una straordinaria antologia, in più lingue, di saggi fondativi per questo campo di studi, che non è una disciplina, ma è un campo di studi dove si incontrano studiosi, studiosi molto diversi. Ecco, questo doppio volume che abbiamo anche nelle nostre biblioteche, come tutti questi altri, naturalmente, merita, credo, di essere un compagno di strada per molti, anche perché può essere in realtà letto a pezzi e meditato diversamente, insomma. non aggiungo altro, ho detto fin troppo, lascio la parola a Cesare e poi ad Antonio. Grazie Edoardo, buonasera a tutti, e soltanto per ringraziare Antonio Becchi di aver accettato il nostro invito, sono davvero contento di averlo qui, di poterlo ascoltare, perché è una storia che si, diciamo, di cui proviamo a ricuscire, una trama un po' interrotta. Non dico molto, dico soltanto, ecco, sul tema della sua conferenza, appunto, ovviamente, le radici della storia del costruire, il tema della storia, insomma, vedremo che cosa, che cosa, come ne discuteremo. Edoardo, benvenuto sul tema della storia, intervenendo in una giornata in cui si commemorava la morte di un suo grande amico che era Antonino Giuffré, sottolineò una differenza che c'era tra lui e Giuffré nell'approcciarsi alla storia. Edoardo, benvenuto, era professore di scienza delle costruzioni, Antonino Giuffré era professore di tecnica delle costruzioni. L'uno, come dice lui stesso, era reduce dagli spazi terzi e delle atmosfere rarefatte dell'astrazione fisico-matematica, che è benvenuto. L'altro, invece, Giuffré era coinvolto nell'attività operativa di restauratore, di ingegnere che interviene sugli edifici esistenti, ma tutti e due assumono la storia, diciamo, riscoprono, diciamo, il ruolo fondante della storia, il ruolo importante della storia nei rispettivi campi di indagine. Avremo modo di discutere di questa diversità con cui la storia può aiutare l'uno e l'altro campo. mi limito qui a dire, diciamo, a commentare una frase che Benvenuto disse a proposito dell'approccio di Giuffré, quando dice che l'ambiente diciamo, in cui Giuffré appunto si inseriva e proponeva i suoi studi era stato inizialmente ostile e recalcitrante. Questa cosa mi sembra davvero singolare, no? Per me non, come dire, per voi giovani forse può apparire singolare o strana, io l'ho vissuta sulla mia pelle e diciamo questa rivoluzione che Edoardo Benvenuto, Antonino Giuffré e altri hanno a un certo punto diciamo provato a operare in un campo di studi con i rispettivi consolidati campi di studio, ecco, è stato accolto in maniera ostile e recalcitrante. Io credo che i due aggettivi si attaglino perfettamente all'attività di Giuffré. Non so quanto si attaglia un'attività di Benvenuto, forse l'ostilità nel suo campo non era strettamente necessaria, però che forse qualcuno potesse essere recalcitrante quello forse sì, quindi su questo magari mi piacerebbe sentire Antonio che cosa avrà da dirci. Non aggiungo altro, magari poi ne parliamo e lascio la parola ad Antonio e ancora lo ringrazio di essere qui con noi. di essere in questa sede. Una battuta su quello che ha appena detto Cesare, a un certo punto a me è venuto il desiderio di rifare un po' la storia del dottorato che avevo fatto, che tra l'altro è lo stesso dottorato che hai fatto anche tu alcuni anni dopo, quindi un desiderio che potrà venire anche a voi tra qualche anno e chiese a uno dei docenti cosa ne pensava dopo tanti anni dell'esperienza che aveva fatto con Edoardo e lui mi aveva detto sotto il vestito niente. Cioè il vecchio collega riassumeva l'esperienza di Edoardo come un'esperienza in realtà fallimentare e soprattutto che non aveva sostanza. Adesso racconterò queste esperienze e vedremo se possiamo condividere questo giudizio. Da molto tempo sono convinto che dobbiamo ascoltare le voci e venendo qua io avrei voluto riascoltare la voce di Anna Maria Zorni e non l'ho trovata online se voi avete quella possibilità di farmi sentire e infatti di farmi sentire la sua voce perché non c'è altro modo torniamo un attimo indietro come ci ha spiegato anche un attimo indietro sorry come ci ha spiegato Joyce nell'Ulisse abbiamo bisogno di mantenere questi gramofoni nelle nostre case e di ascoltarli ogni tanto altrimenti perdiamo qualcosa e vediamo allora ascoltiamo la voce di Edoardo una clip di tre minuti giusto per rendervi conto di cosa si parlava please e l'ultima lezione il riferimento a quanto avete appreso la statica statica primo modulo dove vi ho parlato dei principi della statica la concolizione della forza la legge della leva le leggi le equazioni cardinali dell'equilibrio il principio dei valori virtuali le applicazioni della statica grafica la geometria delle masse e poi c'è soprattutto il secondo modulo dove vi è stato presentato il primo problema vero e proprio di scienza delle costruzioni il problema di Galileo e tutti i suoi gradissimi sviluppi nel corso del diciattesimo del diciattesimo del diciattesimo del secolo vi ricordate qual era il problema di Galileo il problema della mentola la psicologia di un'esercizio è poco liberante la mentola è una parità di un peso e il problema era per determinare a quali concessioni questa struttura si rompe a causa del peso vi ricordate che Galileo aveva diviso la trattazione in due momenti uno era quello relativo alla prima giornata dove Galileo si chiedeva perché i colpi si rompe si rompe si rompe era una domanda sull'urquia perché i colpi si rompe e ricordate che Galileo avevo immaginato che i colpi fossero composti da specie da atomi tenuti insieme dalla forza del vuoto una visione molecolare facciamo dire faculistica della realtà che a quel tempo era molto innovativa progressiva e pericolosa dal punto di vista dei rapporti senza fede di netto come ciò che siamo nel giornale di dell'eserzione della ultima scientifica di Giovanni Paolo II con una soluzione che era di Galileo errata che però avrà dei più sviluppi nel corso dei secoli successivi e condurrà a una teoria dalla quale io partirò dovendo parlare di teoria dell'elasticità e cioè dalla prima giornata idealmente arriverà la teoria molecolare dell'elasticità allora povero 1998 edoardo era stato condannato a morte dai medici e dalla malattia tre mesi prima e morirà il mese successivo perché lui spendesse quelle ultime settimane di insegnare non tutti lo capivano e ancora oggi io me lo chiedo era stato detto che aveva un tumore al pancreas a luglio era stato tra agosto tra luglio e agosto era stato in ospedale poi operato e ha speso poi le ultime settimane a insegnare l'unica cosa che viene in mente è l'esempio di Socrate che voleva imparare quella canzone al flauto prima di bere la cicuta anche lui a chi glielo chiedeva diceva ma per imparare la canzone è un motivo più che sufficiente lui voleva però lenta ancora imparare a insegnare certamente voleva insegnare qualcosa ai suoi allievi ma chi era questo Edoardo benvenuto che spendeva le sue ore alle aule universitarie parlando di scienza e ricostruzione dal punto di vista storico era un uomo uscito da una famiglia borghese genovese molto comune se volete ma anche con personaggi non comuni cattolica pia ma non bigotta che aveva avuto dalla natura molte doti e aveva grande imbarazzo a scegliere fra queste doti fra le varie strade aveva sviluppato la sua mente la sua visione del mondo meno quella atletica aveva delle mani molto grandi che a me ricordavano quelle dei fumetti di Linus quando giocano a baseball le mani che ricordano anche quelle di Giovanni Fontana in questo bel affresco di Melide mani grandi e testa grande e al liceo si era ritrovato stranamente in una classe piuttosto competitiva con ottimi professori che avevano sviluppato in lui tutte queste diverse attitudini in particolare l'arte grande appassionato d'arte veniva dal versante della madre una tradizione familiare importante da quel punto di vista grande appassionato di filosofia grande appassionato di religione faceva il catechismo nella parrocchia le vicine e grande appassionato poi di ingegneria perché aveva uno zio che era ingegnere capo del comune di Genova una figura molto importante in casa benvenuta e qui insieme si ritrovarono lui e Fabrizio De Andrè nella stessa classe qui lo ricordiamo perlomeno oggi che siamo in Eurovision personaggi molto diversi uno probabilmente ascoltava i platters e l'altro sognava la fenomenologia dello spirito di Hegel e pare che il Fabrizio De Andrè mettesse le barchette di carta sulla testa di questa zazzara gobettiana di benvenuto non credo ci siano stati grandi rapporti tra i due ma ovviamente a Genova hanno lasciato il segno ma è soprattutto all'università che Doardo dopo aver scelto ingegneria un po' malincuore perché lo spirito lo portava appunto verso la filosofia e le arti e la musica si diploma al conservatorio contemporaneamente agli studi di ingegneria suonava il pianoforte molto bene alla fine però si trova con dei personaggi che li faranno cambiare la vita se vogliamo nel senso che quella scelta un po' casuale un po' pratica anche terra terra molto genovese e ligure di fare l'ingegnere lo porterà su strade inaspettate trova al dipartimento di costruzione il fratello di Paolo Villaggio Piero che vedete qui che era il vero enfant prodige della scuola genovese geniaccio della matematica ingegnere ma molto spostato sui metodi analitici e sui metodi matematici e fisico-matematici Piero era il personaggio di cui tutti parlavano in quegli anni siamo alla fine degli anni cinquanta Piero Villaggio si trasferirà poi a Pisa e lì diventerà un grande professore uno dei più grandi elasticisti del novecento ma un altro gemello che invece rimarrà e questo è un gemello per Edoardo vero è Alfredo Corsato ingegnere di rango persona squisita di intelligenza squisita di umanità squisita che accompagnerà Edoardo per tutto il suo percorso faranno insieme la carriera universitaria Alfredo Corsano rimarrà in ingegneria Edoardo si sposterà ad architettura e si sposterà ad architettura nel 79 in realtà già prima nel 79 diventa prestita e quindi diventa non soltanto un collega dei colleghi architetti ma anche qualcosa di più la loro guida e pubblica gli appunti che aveva raccolto negli anni 70 e questi appunti raccolti negli anni 70 sono appunti di storia della costruzione lui mandato da Baldacci che era stato il suo maestro ad architettura aveva deciso di trovare una strada per convincere gli architetti che valesse la pena occuparsi anche di materia strutturale ed era convinto che la storia fosse la strada giusta in realtà era convinto che la storia fosse la strada giusta per tutti non soltanto per gli architetti ma lui era capitato di insegnare gli architetti e quindi la proponeva innanzitutto a loro se però gli fosse stato chiesto se davvero quella era la sua strada la sua vocazione l'unica cosa che voleva fare io credo che avrebbe risposto come rispose questo presidente della Repubblica Federale tedesca chi li chiudeva se amava la sua patria e lui diceva ma io veramente gli stati non li amo amo mia moglie il resto poi viene da me e lui anche lui avrebbe detto innanzitutto che amava la teologia molto più che la scienza delle costruzioni e poi amava tante altre cose amava la sua città amava l'università amava insegnare questa però è una delle cose che si era applicata a fare e voleva farla bene sicuramente la fece molto bene vediamo all'inizio di quel percorso anche per quello che diceva Cesare poco fa e anche Edoardo qual era l'atteggiamento di colui che si presentava in una veste un po' strana ai colleghi di scienza e di tecnica vediamo ad esempio che cosa disse nell'83 e non a caso scelgo due dati significativi del 1983 poi il 1993 e vedremo perché in questo convenio dei professori di scienza e tecnica delle costruzioni Sama Roma 21-22 ottobre si presenta facendo una specie di autoritratto se posso dire così l'unica architettura alla quale io abbia dato la mia opera è l'architettura ideale della stessa scienza delle costruzioni ad essa soltanto dedicata ai miei progetti ad essa soltanto pensato mentre mi cimentava a tracciare da scienziato quegli abbozzi nel mondo delle idee che parola di Benjamin affratellano al ricercatore all'artista consideratemi come redattore di un bollettino tipo la voce del missionario qui c'è tutto il suo resto terra cattolico uno di quei bollettini voglio dire che a sfogliarli interessano gli occidentali per le fotografie degli Zulu le danze tribali i monumenti di foggia bizzarra sì che gli occidentali se ne interessano perché pensano in cuor loro come si sta bene tra noi nella metropoli e poi passa a parlare di un particolare missionario che era stato mandato in Cina il padre Matteo Ricci perché ci fu frattura tra Roma e il padre Ricci perché quel che si pretende dal missionario non è solo che annunzi la salvezza ai popoli lontani ma che esporti insieme anche il latino i paramenti il barocco i maccheroni al ragù o i cornflakes ed ecco che invece il missionario avendo visto avendo appreso ascoltato altre voci viene a dire ai monsignori e alla tia comunità della real chiesa d'Inghilterra che i cornflakes e il latino non sono poi così importanti e possono essere lasciati o meno secondo le circostanze i luoghi i linguaggi e qui interviene il dissidio perché i monsignori sono spessi attaccati ai paramenti sacri le gerarchie che rassicurano alle forme devozionali che consolano più ancora che al messaggio di salvezza in sé e non per cattiveria certamente ma perché quelle devozioni e quelle gerarchie sono ciò che rende visibile qui in occidente il messaggio di salvezza sono ciò che gli dà un'identità sicura e a un certo punto esce di metafora e possiamo immaginarci come lo stavano ascoltando attentamente i suoi colleghi fuori di metafora non abbiamo anche noi le nostre forme devozionali la preghiera privata che si fa con carta e matita consultando i teoremi di esistenza e unicità dell'analisi funzionale e la preghiera pubblica che si fa con ecatombi sacrificali giornaliere all'idolo del nostro tempo sua divinità il calcolatore e qui per capire l'attacco al calcolatore bisogna guardare la foto lì in alto che è quella di trusel e la moglie charlotte nella casa al palazzetto di baltimora dove loro vivevano in una casa rinascimentale italiana con tutto quanto era l'apparato che potete immaginare al posto del computer avevano un clavicembre un piano a coda e davano feste e parti vestendosi d'epoca trusel è una figura fondamentale in edoardo e lo vedremo tra breve eppure io credo se c'è luogo in cui si sta disperdendo l'identità sicura delle nostre discipline è proprio in queste sedi delle devozioni canoniche tra i paramenti rispettabili lussureggianti dei preti di curia tra i quali se mi è concesso colloco me stesso e arriva all'affondo ebbene noi stiamo attraversando un momento storico nel quale quasi d'improvviso ciò che era valore qualche tempo addietro si è manifestato essere un disvalore la figura dello strutturista unilaterale che poteva gloriarsi di non saper nulla di non voler saper nulla al di fuori dei suoi calchi di cemento armato oggi sta diventando un personaggio vecchio inutile e comunque marginale lo studioso che poteva in buona fede credere di dare un contributo importante alla scienza delle costruzioni nel rivestirla tutta da capo nel linguaggio matematico più esoterico oggi si sta dimostrando un giocoliere non un ricercatore voglio dire infine continua benvenuto questo è il momento storico in cui noi di scienza e tecnica delle costruzioni dobbiamo ricordarsi di Giovanni Poleni e degli altri uomini come lui per aprirci ai veri problemi nova et vetera che sono il frutto delle nostre discipline e che richiedono profondità e ampiezza di riferimenti culturali come dicevo questi problemi veri pulsano ad architettura dove da tempo seppur con la fragilità che accompagna la nascita e la giovinezza di ogni nuova proposta essi hanno donato forze entusiasmo speranze di tutti credo che abbiate capito immediatamente qual era il suo programma era l'inizio diciamo di questa esperienza di architettura aveva appena pubblicato il libro voleva fare una rivoluzione e cominciava a annunciare questa rivoluzione probabilmente per passare un po' il terreno per vedere le reazioni prima di andare avanti però vi voglio dire due parole su Trusel perché non capiamo nulla se non capiamo perché quei volumi gialli poi sono usciti appunto con la prefazione di Trusel cioè perché l'esperienza italiana è diventata poi un'esperienza mondiale e grazie a Trusel il quale aveva una grande collezione di opere italiane ad esempio quest'opera in alabastro che rappresenta Giuditta e Loferme ma il personaggio era così bizzarro e davvero eccentrico che dopo essersi comprato l'opera in alabastro si era fatto fare un quadro in cui Giuditta e Loferme erano rappresentate e come vedete in una nicchia con la scritta Costruiamo questa era in casa sua nel suo studiolo in cui la donna inuda e la moglie con la spada in mano e lui il decapitato quindi con la testa che viene sorretta dalla moglie stessa e quella spada che mette ha fatto mettere l'artista in mano a Giuditta è la stessa spada che usava nelle recensioni e anche diciamo nei rapporti più cordiali che aveva a quei colleghi qui ne vedete una secondo me indimenticabile al povero García Godofredo che aveva scritto sull'autorevolissima sugli autorevolissimi atti dell'Accademia delle Scienze di Lima spiegava che aveva sbagliato il mestiere e che era il caso che forse si dedicasse ad altro dovete immaginare come la prosa barocca di Edoardo si adattava a queste forme invece di diciamo così capacità e questa è anche la lingua inglese ovviamente che aiutava in cinque parole di risolvere il problema piuttosto che in cinque pagine bene che cosa fa Edoardo che nelle sue lezioni ad esempio quella che abbiamo sentito prima mostrava per fortuna personaggi vestiti che in qualche modo illustravano la storia della disciplina ma fa l'unica cosa che si poteva fare nel 1983 in un'università italiana decide di fondare un dottorato la legge fondativa sapete del 1980 la legge di riforma dell'università nell'80 viene data la possibilità di realizzarli di avviarli poi in realtà partono nell'83 credo che i primi siano dell'83 lui insieme ad alcuni colleghi e poi li ricorderemo decide di farlo e di farlo da par suo e qui vi leggo parte di un documento inedito non abbiamo tempo di commentarlo tutto anche se ne verrebbe la testa prima ipotesi per il dottorato di ricerca in storia delle scienze e delle tecniche costruttive la scrittura che vedete è la scrittura di Edoardo non ha mai usato un computer ed è morto nel 1998 scriveva tutto a mano anche i suoi libri il principio che anima il dottorato è che considerando le cose nella loro genesi se ne ottiene un'intelligenza perfetta Aristotele politica libro primo finalità del dottorato è formare i ricercatori idonea di inserirsi a pieno titolo nei campi specifici della scienza e tecnica delle costruzioni sì da poter accedere alla docenza di tali discipline in special modo presso le facoltà di architettura terzo punto la ricerca e la didattica della scienza e la tecnica delle costruzioni presso la facoltà di architettura impone uno sforzo ulteriore rispetto a quello tradizionalmente richiesto presso le scuole di ingegneria non leggiamo il resto della spiegazione ma vi dico in soldoni cosa voleva dire voleva dire che servivano dei docenti che fossero esattamente come quelli che già c'erano ma in più sapessero tutto quello che c'è da sapere di storia di restauro e di quant'altro quindi il suo discorso è impostato non solo ma non solo ma anche non solo ma anche ripunto fino a creare i nuovi ricercatori vediamo una definizione di questa nuova scienza la scienza e la tecnica delle costruzioni appreppiate alla facoltà di architettura devono esprimere più perspicuamente la loro fondativa attinenza all'arte e alla scienza di costruire nel campo dell'architettura edificatorio ciò però non ha fatto nel senso di una strumentalità tecnica ma al contrario nel senso che dà sempre la firmitas e dimensione costitutiva dell'architettura dimensione ospite di alte testimonianze culturali che hanno investito anzitutto la matematica la geometria e la meccanica razionale nel loro sviluppo storico non dunque la perizia degli ingegneri ma la scienza dei matematici altra definizione devo saltare per ragione di tempo la scienza e la tecnica di costruzione appropiate dell'architettura debbano ritrovare la loro più profonda radice nel grande progetto dell'età barocca e in parte luministica e qui sentiamo anche Trues nel sottofondo di includere l'architettura quale capitolo terminale degli elementi amatesi o su universe e qui confrontare il mondo matematico di De Schale e gli elementi si tratta di una concezione della scienza e della tecnica in certo modo alternativa o complementare rispetto a quella oggi prevalente presso le facoltà di ingegneria dove le medesime discipline sono intese come capitolo di una generica meccanica applicata e dove l'identità disciplinare stessa si viene gradualmente sbiadendo questo è un attacco velenoso a quello che stava accadendo sia per la preponderanza acquisita dei metodi numerici vedi meccanica computazionale sia per la sostanziale estraneità ai temi dell'edificare manifestata dai settori più avanzati della ricerca e saltiamo ai requisiti che venivano richiesti a questi dottorati quindi a persone come voi che avevano finito il ciclo universitario tradizionale pre-requisiti necessari per la missione ai corsi del dottorato sono uno una buona conoscenza dell'analisi matematica della geometria analitica proiettiva e descrittiva nei loro fondamenti offerti nel bienio propede di ingegneria nei corsi del primo bienio di architettura due una buona dimestichezza con la meccanica razionale quale insegnata il secondo anno di corso di ingegneria tre una perfetta preparazione nelle discipline specifiche di scienze delle costruzioni di tecnica delle costruzioni secondo i consueti programmi scolastici svolte di ingegneria e architettura quattro un'ottima conoscenza della storia dell'architettura quale insegnata nel corso biennale di architettura cinque un'adeguata preparazione nel settore tecnologico sei una buona conoscenza delle teorie delle tecniche di restauro architettonico sette un'opportuna approfondimento in storia della critica della letteratura architettonica e in consolidamento adattamento agli edifici otto una conoscenza almeno a livello scolastico delle seguenti lingue francese inglese latina possibilmente anche tedesco e greco antico nove una buona cultura classica a livello liceale con particolare riferimento alla storia del pensiero filosofico e scientifico e credo che anche a distanza di quarant'anni ormai venga da sorridere perché anche coloro che qui ce ne sono almeno due che hanno frequentato quel dottorato credo che neanche dopo trent'anni noi potremmo osare andare ad andare all'esame di ammissione al dottorato era decisamente un po' troppo a quello che pretendeva il buon Edoardo eppure quel progetto andò avanti si concretizzò davvero in un dottorato insieme a due amici e colleghi di cui lui aveva una grande estima a Firenze Salvatore di Pasquale e a Roma Antonino Giuffredi e Cesare certamente meglio di me può parlare di Antonino Giuffredi insieme erano assolutamente convinti che questa via storica dovesse rivoluzionare le facoltà di architettura e secondo me e anche loro pensavano le facoltà di ingegneria non solo quelle di architettura le opposizioni sarebbero state tante ma erano convinti che questo dovesse farsi per varie ragioni questo non avvenne possiamo dire oggi anzi a 30 anni di distanza varrebbe proprio la pena 40 30 per quanto riguarda poi l'attivazione del dottorato riflettere il perché perché questa battaglia poi fu una battaglia persa quello che è interessante è notare le corrispondenze cronologiche di questi tre personaggi Antonino Giuffredi muore purtroppo prematuralmente nel 97 a pochi mesi di distanza ancora non 58enne muore Edoardo Benvenuto Salvatore Di Pasquale che era stato anche preside a Firenze oltre che grande professore di scienze rivoluzioni si ritira decide di cambiare sede e va in Sicilia a insegnare all'università di Catania di staccamento di Siracusa e lì rimarrà fino alla fine della sua carriera anche per ragioni familiari ma certamente anche per ragioni fine di un ciclo i due amici non c'erano più non aveva intenzione di continuare senza o continuare perlomeno così come aveva fatto sino allora Di Pasquale ricordiamo il libro che anche Edoardo mi sembra lì straordinario l'arte del costruire tra conoscenza di scienza che è una summa del suo insegnamento ricordiamo che Di Pasquale Cesare forse può confermarlo è stato il primo architetto a vincere la catena di scienza delle costruzioni e a insegnarla per 40 anni Antonino Giuffre straordinario volume alla meccanica dell'architettura nell'86 quindi poco dopo il volume di Edoardo ma con un approccio molto diverso e complementare e poi come abbiamo detto a dieci anni di distanza l'edizione italiana l'edizione americana non possiamo dimenticare perché faremo un falso storico che a livello internazionale la lezione Jacques Hyman aveva costituito già un'onda d'urta d'urto di assoluto rilievo colui che ci aveva insegnato fin dagli anni 60 a passare dallo steel skeleton allo stone skeleton aveva pubblicato già negli anni 60 degli articoli ma poi nel 72 questo volume in cui l'ingegnere che si era formato con Baker e Prager cioè la migliore scuola al mondo di teoria della plasticità capiva che potevano gli stessi metodi o metodi analoghi essere applicati alle strutture morarie e apriva un nuovo fronte di ricerca su quel campo questa è la memoria che lui aveva studiata quella di Coulon ma molti altri studi Jacques Hyman ancora con noi ancora molto vivace e attivo nel campo scientifico lui è colui veramente che ci ha accompagnato in questi anni per quanto riguarda un approccio diverso alla scienza e alla tecnica delle costruzioni dicevamo 1983 questa rivoluzione in fieri che poi si svilupperà col dottorato di ricerca appunto nel 93 si sentivano già le avvisaglie Edoardo era stato presido ormai da 14 anni aveva capito che aria attirava e vediamo che cosa dice in ricordo di Vincenzo Franciosi un altro professore di scienza delle costruzioni molto importante anche lui mancato prematuramente a proposito dell'amicizia intima più che fraterna che si instaura nei chiostri in simili società separate facendo riferimento a ferme Lucia di Manzoni benvenuto dice queste frazioni questi crocchi egli Alessandro Manzoni annotava con graffianta ironia creano fra tutti i membri che li compongono un vincolo particolare di interessi di amor proprio comune e di benevolenza vincolo talvolta debole assai e che non basta di impedire odi accaniti e mortali ma forte però abbastanza per contenere gli odi nell'interno della piccola società e per dare a quelli stessi che si odiano che si odiano un'apparenza una condotta da amici ogni volta che si trovino in contrasto con gli estrani questo è il clima che alleggiava evidentemente su quella riforma e di cui ovviamente poi si fecero i conti è anche una delle ragioni per cui Edoardo decise di aprirsi al mondo non solo con quel volume del 91 che già abbiamo visto ma con un primo convegno between mechanics and architecture che si è tenuto all'interno dei convegni di storia della scienza a Saragozza nel 93 e questo è il volume che raccoglie gli atti che praticamente in realtà è un volume un po' di rielaborazione di quegli atti pubblicati da Birkhoise ed è il primo volume pubblicato da Birkhoise che si occupa di questi temi che ha rappresentato veramente una nuova tappa diciamo negli studi sulla storia del costruire mi avvicino ai tempi più vicini perché appunto vorrei poi discutere con voi e con Edoardo e Cesare di questi aspetti anche nell'attualità che cosa è stata la vicenda di Edoardo dopo il 98 e l'associazione che è stata fondata nel 99 aveva proprio l'intento di recuperare il pensiero di continuare a discutere non di mumficarlo ma semplicemente di metterlo al centro dei dibattiti il pensiero teologico innanzitutto che è quello che gli stava più a cuore ma anche altri aspetti ad esempio appunto la storia del costruire nel 2002 c'è stato un primo incontro dedicato alla storia del costruire in Italia didattica e ricerca e vedete tra l'altro che nel programma ci sono anche i torinesi amici e colleghi di Edoardo e nostri qui purtroppo sono saltate dall'immagine spero che altre non saltino il premio Edoardo benvenuto 12 edizioni ormai a partire dal 2002 quindi la possibilità di premiare dei giovani che si spendono e si prodigano in quella direzione con studi di interesse volumi che da una parte raccolgono dei saggi del Convenio 99 e dall'altro onorano e rivisitano anche l'esperienza di Trusel e Benvenuto dell'accoppiata Trusel e Benvenuto una riproposizione del volume del 91 un po' stupefacente se ci pensiamo perché è un volume che lo stesso Edoardo considerava vecchio negli anni 80 che però continua a avere un grande successo l'editore di storia e letteratura di Roma l'edizione di storia e letteratura di Roma ha voluto pubblicarlo con grande intelligenza e grande perspicace ed è un volume che continua ad essere apprezzato e poi dei volumi lì ne avete visto uno che cercavano di fare nel 2004 e poi nel 2018 un altro intermedio nel 2015 l'abbiamo messo online il punto sulla storia del costruire in Europa una storia molto articolata molto sfaccettata molto contraddittoria anche se vogliamo però di grande interesse e qui cito semplicemente alcune delle mie ricerche perché su queste possiamo poi discutere l'idea era quella non di fare un'opera di sintesi di nuovo e vedremo anche il perché ma di approfondire singoli aspetti proprio degli approfondimenti a sondaggio molto limitati ma che ripercorrevano alcune delle intuizioni che aveva già avuto Edoardo ai suoi tini e delle figure che lui aveva trattato nel suo libro Leonardo come vedete è l'ultimo della serie dicevo la sintesi non era tanto da riprendere in mano perché nel 2002 un amico che ha molto ammirato Edoardo e che ha conosciuto e incontrato più volte Carl Hagenkuhre di Berlino ha deciso di far lui una nuova sintesi con questa meravigliosa che è Schichter del Baustatik che poi è diventato un volume anche inglese che si è ampliato a dismisura anche con una sezione biografica molto interessante è una delle migliori che abbiamo al momento di biografia degli ingegneri che vengono citati nel volume stesso e che è un'opera veramente notevole che consiglio a tutti e che adesso è diciamo un riferimento per coloro che si occupano di questi temi non vorrei dimenticare e non lo faccio per piageria o perché sono qua chi mi conosce sa che la piageria non è il mio difetto migliore semmai il suo contrario la scuola torinese per noi è sempre stata molto presente non solo perché Edoardo ci mandava già all'inizio come scolaretti qui a Torino a studiare e voi avete la fortuna già di esserci quindi non dovete neanche muovermi ma perché c'erano dei personaggi che avevano segnato per sempre la storia della disciplina qui ne ho elencati alcuni grande tristezza vedere questa colonna così lunga di sinistra con persone che veramente ci sono state molto molto vicine rileggevo tra l'altro dei documenti degli anni Ottanta e si vedeva chiaramente come ad esempio il dialogo con Pizzetti e Anna Maria Zornio fosse quotidiano proprio perché quel libro pubblicato nell'Ottantuno veniva a costituire un pandan perfetto con principi statici e forme strutturali che è dell'Ottanta e per noi tra l'altro un viattico verso Torroja perché direi che l'abbiamo scoperta attraverso loro e tutto quello che voleva dire poi per gli ingegneri e gli architetti questa riflessione che arrivava dalla Spagna ma non vorrei neanche dimenticare e questo varrebbe la pena poi discuterlo magari in altra sede come questo impegno di Edoardo e impegno torinese quindi impegno liguere e piemontese fosse radicato nella città e nel sociale per Edoardo questa è una dimensione fondamentale direi io qui ho citato solo due riferimenti di Giulio Pizzetti Arturo Paoli e Ernesto Olivero per chi di voi mi conoscono il Sermig ma nell'ambiente genovese qualcosa di analogo con una figura come Edoardo Grendi che certo non era sul versante religioso ma dell'impegno politico vero di impegno quotidiano con uno studio che partiva nel caso di Grendi alla Nonno School of Economics quando era ancora giovane quindi mandata a studiare fuori e che tornava poi a casa e diventava lavoro quotidiano decennale negli archivi serio puntuale da storico con la S maiuscola insegnando poi agli altri come si doveva appunto avvicinare il documento come occorreva interpretarlo pensate che con questa grande esperienza che aveva lui aveva alcuna remora a occuparsi poi di Mioio Sassello per riconoscere la Liguria dei paesini dell'entroterra perché da lì c'era la possibilità di capire il mondo attraverso quei paesini lo stesso potrebbe dirsi per la geografia di Massimo Quaino e arriviamo quindi ai vostri lavori e qui ho tratto una citazione che Edoardo conosce bene perché mi sembra importante stabilire un contatto diciamo anche per il dibattito facendo riferimento molto gentilmente a un mio testo del 2008 quindi molto vecchio pubblicato poi nel 2010 in cui facevo diciamo un quadro di quello che a me sembravano i problemi locali problemi locali italiani partendo da lì diciamo i colleghi e amici facevano presente che la situazione adesso è molto diversa e ne sono convinto anche perché a Torino è sempre stata diversa diciamo l'eccezione c'è sempre stata e quindi è con grande piacere che si vede che l'eccezione continua ad essere eccezione rimane però il fatto che a livello internazionale l'Italia è vista in modo molto particolare da una parte con immenso rispetto perché questa tradizione la conoscono i nostri amici oltre altre dall'altra non capiscono perché noi non riusciamo a fare quello che gli altri riescono a fare cioè a organizzarci a metterci insieme e a creare ad esempio qui abbiamo visto c'è una lista di conveni internazionali che si sono avvenuti a partire da 2003 tra l'altro il convenio col supporto anche dell'associazione benvenuto il primo convenio internazionale con gli spagnoli che poi si sono susseguiti anche con associazioni nazionali o diciamo di associazione per lingua come l'associazione francofona e addirittura con un convenio nazionale in Algeria l'anno scorso quindi anche con paesi certamente non di grande tradizione ma con grande volontà che vogliono lanciarsi in queste imprese le riviste anche confermono diciamo questa sorta di lateralismo della posizione italiana in Francia Regno Unito e Spagna ne abbiamo ormai tre due sono nate più recentemente che cosa si può trarre da questa esperienza e anche da questi diciamo dati di fatto ma io qui lancio tre punti per la discussione una è riferita a una visita che feci a Franco Levi che è stato a lungo uno dei vostri insigni professori qui a Torino per andare a chiedere delle spiegazioni sui rapporti tra Miozzi e la sua teoria delle lesioni sistematiche per quanto riguarda la costruzione dei ponti e quello che Colonnetti aveva fatto straordinario lavoro sull'equazione Franco Levi mi confermò che quello che io avevo sospettato che alcuni storici avessero travisato questo rapporto interpretato malamente ma soprattutto mi raccontò una storietta e la storietta era riferita a Eugène Fressinet che aveva conosciuto che era il grande rivoluzionatore del cemento armato precompresso di cui Franco Levi tra l'altro era uno dei protagonisti assoluti a livello internazionale e mi diceva ma sai quando si parla di Fressinet noi raccontiamo questa storia che io scopersi poi dopo che era una storia molto diffusa come Barzelletta c'è il ricercatore e c'è il grillo il ricercatore prende il grillo e annota alcune caratteristiche ad esempio come salta il grillo allora prende il grillo e dice salta e il grillo salta e il ricercatore nel suo taccuino annota quanto è saltato supponiamo 35 cm dopodiché stacca una gamba posteriore del grillo e dice ancora una volta salta e il grillo salta un po' sbilenco ma continua a saltare e segna la nuova misura diciamo 18 cm stacca la seconda gamba e dice salta il grillo non salta ripete salta e il grillo non salta ripeto alcune volte dopodiché annota nel suo taccuino il grillo è diventato sordo e lo diceva ovviamente perché c'era un certo atteggiamento anche all'interno degli ingegneri tra coloro che davvero capivano le cose e quelle che non la capiva ma a me è molto interessato perché mi immaginavo che Edoardo avrebbe voluto scrivere il suo testo non solo per quelli che scrivevano è sordo ma anche quelli che capivano che era un assurdo scrivere sordo o forse non del tutto un assurdo perché chissà il grillo potrebbe anche essere diventato sordo per altre ragioni o magari le orecchie li erano state messe sulle zalle secondo aneddoto riguarda Riccardo Morandi mi fa molto piacere avere la collega Costanza qui e un suo possibile algoritmo impossibile quando io vengo dalla Liguria originariamente potete immaginare l'effetto che ha provocato su di me il crollo la tragedia del Ponte Morandi e io sono andato a rivedermi le relazioni di calcolo che avevo a disposizione e mi sono chiesto perché al di là di tutte le indagini giudiziarie di tutte le storie che scriveremo di quel fatto noi non cominciamo a leggere quei testi da linguista e cioè perché quelle relazioni di calcolo non vengono lette da chi fa la storia della lingua per capire che cosa quel vocabolario che cosa quella scelta dei vocaboli e dei verbi significava negli anni 60 per un ingegnere come Riccardo Morandi e ovviamente per tutta la sua scuola la famosa scuola di ingegneri secondo me sarebbe estremamente interessante studiarlo e l'ho proposta anche agli amici dell'Accademia della Crusca perché mi sembra che siano i partner ideali per un lavoro di questa gente quindi occuparsi del linguaggio del 500 del 600 del 700 va benissimo ma proviamo a occuparci anche di ieri proviamo a occuparci di queste cose che poi fanno venire la pelle d'oca a pensare che nessuno storico della costruzione avesse anticipato quello che è accaduto e in questo siamo veramente anche noi responsabili perché il ponte era lì e ci passavamo sopra anche numerose volte sapevamo che era sotto lavori di consolidamento di rifacimento e quant'altro eppure nessuno ha capito cosa stava succedendo ma se avessimo riletto con l'occhio dell'inguita quelle relazioni secondo me qualcosa avremmo capito anzitemi terzo anedito riguardo Salvatore Di Pasquale eravamo a Parigi a visitare un amico comune Joel Sakharovic c'era l'idea di scrivere un libro insieme ed eravamo in Rue Saint-Père che è la via dove c'è la vecchia sede dell'Ecole du Pont-Chaussé adesso in realtà non c'è neppure più un lacerto dell'Ecole du Pont-Chaussé si è trasferito altrove e io gli chiedevo proprio il rapporto tra l'esperienza torinese e la sua esperienza proprio come dire che in Italia l'esperienza di Torino era stata fondamentale per chiunque si fosse occupato della storia della disciplina lui tagliò corto non perché non pensasse che così fosse ne era convinto come ne sono convinto ne ero convinto anch'io e ne sono convinto ancora oggi anch'io ma il problema era altro secondo lui il problema è e lui mi disse usando quel tono napoletano che lui usciva quando voleva trasformare in una frase in un proverbio mi sentò il problema è molto semplice i casi sono due o i docenti sono rozzi e allora di storia non si occuperanno oppure non sono rozzi e se non sono rozzi di storia si occuperanno sia nella ricerca sia nella didattica non si può fare altro e questo fatto che per lui fosse ovvio mi colpì molto perché in realtà veniva da una generazione che non aveva mostrato diciamo questa grande predilezione per l'approccio storico ma aveva capito in particolare con la scuola torinese penso al Benga e i colonnetti che questo in realtà fosse fondamentale anzi distinguesse chiaramente le due fazioni da una parte i rozzi e dall'altra coloro che non sono rozzi e da questo punto di vista mi sembra che ci sarebbe un collegamento anche diretto con quanto diceva Edoardi in uno dei testi che abbiamo letto cioè quanti giocolieri possiamo permetterci di avere tra le nostre figlie vi ringrazio per l'attenzione bene credo che possiamo innanzitutto dare la parola al pubblico sapere se ci sono domande curiosità o interventi vi chiamerei qua Cesare grazie ma so che per tradizione viene data la parola e viene anche presa insomma dall'uditorio e quindi vi prego di farvi avanti va bene ma penso che vada vada benissimo le domande in inglese sì well if there are any curiosities questions or positions let's say that you want to express please do so ok it's a good moment abbiamo anche alcuni studenti che sembrano in grado di intervenire in italiano insomma avendoli nei miei corsi non me ne stupirei ma non voglio forzare la mano naturalmente sì sì certo non si sa se è il pre-pranzo o la post-digestione questo senz'altro credo che ci sia anche un po' di smarrimento nell'essere messi davanti a degli argomenti veramente politecnici in qualche modo che è uno dei problemi che insomma che subiamo a tutti i livelli in questo momento del significato quale significato ancora di una università politecnica e di una comunità politecnica che su alcuni piani non condivide molto naturalmente la cosa vale anche dall'architettura verso l'ingegneria ecco l'ignoranza degli architetti delle cose degli ingegneri non è assolutamente un senso di come dire di frustrazione soltanto rivolto all'altra parte e questo direi che questa separazione tra i due mondi o tra tra molti mondi in realtà perché anche quelli dell'ingegneria tendono a essere molti più si va avanti con gli studi e più sono mondi separati insomma è una strattura difficile da ricomporre e qui abbiamo parlato di una figura di ricomposizione anche polemica ma proprio di un sapere di un sapere integrato e nonostante che insomma nessuno di noi possa dire anzi forse è un sapere che nessuno può dire di possedere veramente solo a livello teologico filosofico si può pensare di controllarlo credo che neanche Guarini che viveva in quel mondo di sapere assolutamente integrato credo che avesse ben chiaro quali fossero i suoi limiti di conoscenza insomma del mondo delle strutture e di quello invece e degli altri mondi che frequentava Cesare sì ma Antonio bellissima questa tua comunicazione ma partirei da una piccola notazione su questo racconto del Grillo che mi ha molto mi ha molto affascinato perché io forse esagerando ma ai miei studenti racconto un'altra parabola quella dell'autoinganno forse esagerando perché alla fine come dire sembra quasi che io voglia dire attenzione che il calcolo strutturale è veramente rischia di portarci lontanissimo dalla realtà no forse per un ragazzo rischia di essere eccessivo ma chissà magari se uno come dire dice state attenti qual è questa parabola dell'autoinganno è una quando abbiamo curato il libro di scritti di Giuffre abbiamo letto le carte d'archivio c'era un quaderno di suoi appunti in cui in una pagina c'erano le verifiche che poi sarebbero conflite nel volume di Ortigian e nella pagina a fianco c'era un appunto che Giuffre ha preso su un articolo che aveva letto su Repubblica in cui si recensiva un libro di due antropologi americani quindi siamo negli anni ottanta credo che oggi questo sia qualcosa di assodato nell'antropologia ma all'epoca magari era qualcosa su cui si dibatteva e si diceva in questo libro che la differenza tra l'uomo e la scimmia consiste nel fatto che la scimmia non è capace di autoinganno cioè vede la realtà per quello che non costruisce nessuna diciamo niente che non sia diciamo proveniente dalla realtà che sia nel suo cervello e Giuffre dice ah ma questa cosa è interessante perché noi ingegneri siamo soliti autoingannarci all'epoca c'era questo problema della verifica sismica delle pareti nel piano c'era questa formula sviluppata dai due Jugoslavi Tursek e Kakovic la famosa Tauk che ancora oggi diciamo dura a morire e Giuffre dice noi facciamo una verifica delle pareti murarie inventandoci un concetto che diciamo chissà se esiste la Tauk è una resistenza a taglio dopodiché facciamo queste verifiche se la verifica torna noi siamo contenti se non torna diciamo che l'edificio ha qualche problema ora è come dire al grillo che gli hai tolto le zampe e sei diventato sordo e questo naturalmente diciamo poi va al cuore di tutta la diciamo di tutto questo recupero ecco com'è che uno sfugge a questo a questo autoinganno mi ricordo anche una correggimi se sbaglio ma uno dei capitoli finali della storia della scienza delle costruzioni nel suo sviluppo storico di Edoardo Benvenuto è quello appunto sui programmi di calcolo si intitola e se fosse tutta una questione di linguaggio vero? perché lì effettivamente ecco se uno legge quel libro come dire oggi qualunque ingegnere esperto in programmi di calcolo e perde di vista il fatto che quello che il programma di calcolo fa è tradurre rendere possibile la soluzione di equazioni che 1860 64 Klebsch aveva formulato a metodo degli spostamenti le equazioni di Müller Breslau cioè come dire c'era già tutto dopodiché gli diamo una veste linguistica diversa pensiamo di avere inventato qualcosa e rischiamo appunto di perderci da qualche parte mi sono appuntato la frase perché mi è sembrata bellissima parlava del dottorato ma forse ben rappresenta anche proprio qual è l'approccio e l'utilità della storia l'approccio alla storia di Edoardo Benvenuto e qual è l'utilità dello studio della storia per la scienza delle costruzioni c'è una disciplina apparentemente così invece che potrebbe anche essere astorica considerando le cose nella loro genesi se ne ottiene una conoscenza perfetta Aristotele mi sembra che questo sia come dire la migliore sintesi e perché appunto e qui mi viene in mente anche tutto un approccio con cui la scienza delle costruzioni è insegnata in Italia c'è un approccio deduttivo che si trova in tutti i libri con la sola eccezione magari tu diciamo sei più su questo esperto di Belluzzi credo per cui diciamo la trave in questi libri viene dopo che uno ha parlato di una patata elastica tutta disordinata eccetera e la trave è un oggetto particolare mentre la trave se uno si legge Navier lui parte dalla trave cioè è l'oggetto che fa il problema meccanico e quindi richiede una teoria e se uno legge Belluzzi diciamo Belluzzi tratta la trave inflessa esattamente come la tranta Navier e questo appunto prima sentivo nella io non sento molto bene quindi non riuscivo a capire bene ma mi sembra che Edoardo Benvenuto citasse il problema di Galileo a un certo punto ecco il problema di Galileo è veramente una cartina di tornasole ormai non c'è il libro di scienza delle costruzioni in cui non c'è il problema di Galileo ma è un condimento così tanto per dire per fissare quasi una data di nascita come se avesse senso dire la scienza delle costruzioni nasce nel 1638 perché Galileo in quell'anno studia un certo problema mi sembra invece che appunto il come dire il problema di Galileo è un problema che parte da una struttura reale ancora Edoardo Benvenuto mi sembra che parlasse degli oggetti che hanno fatto la meccanica quindi un approccio induttivo anziché deduttivo e qui ancora una volta diciamo la storia la storia come strumento che ci aiuta ad essere consapevoli dei nostri strumenti di calcolo da questo punto di vista poi è chiaro lui individuava anche una differenza invece con l'approccio alla storia di Giuffre che come dire semplicemente perché Giuffre era impegnato in una ricerca sul reale quindi la storia aveva anche altre implicazioni ma alla fine forse anche Giuffre come dire alla storia ha fatto le stesse domande che faceva Edoardo Benvenuto cioè fammi capire meglio un problema che io sto studiando per il quale i miei algoritmi sono insufficienti questo Giuffre l'ha scritto più volte lui ha curato la ristampa in un'epoca in cui i libri non si trovavano ancora su Google Book ha curato la ristampa anastatica delle memorie statiche delle memorie storiche di Poleni con la finalità proprio appunto di non con la come dire l'approccio dello storico che come dire vuole penetrare un problema di sviluppo di una certa teoria o di un certo problema ma proprio per trarre un'indicazione operativa questo è diciamo in Giuffre evidentissimo e e niente mi fermo qua sì io sono la cosa di lasciare un'altra un'altra di un'altra di